Sì, guarda pesante, eh. Forse... Ti puoi aiutare. Era il 7 settembre e il sole cominciava a sorridere sulla piccola cittadina di Bacca Blu. Preghiamo quando è pronto. Giulio, ma sei proprio tu? Io non t'ho più visto da quando... Da quando mi hanno l'essenziato? Sì. Ma ora che combini? Pedalo. Ma fatemi capire un po' una cosa. Ma questa sono tre anni che sei in Italia e ancora non si è imparata di una parola in italiano? Il giorno dopo, però... non fu la stessa cosa. Dai, vieni. Mamma! 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 Amma! Ho è Sì. Non è vero. Non è vero. Non è vero.